È davvero stata una prestazione importante ma c'è stata la sensazione che forse l'Udinese l'abbia proprio vinta lì in mezzo al campo la partita con il Milan perché avete ringhiato, avete aggredito i portatori di palla avversari, tanto pressing e lì forse che c'è stata la vera chiave per vincere questa partita. Sì, sono d'accordo, abbiamo preparato bene la partita, sapevamo come giocano e penso che alla fine se ha visto abbiamo chiuso i spazi, non abbiamo concesso tanto. Possiamo essere contenti della presentazione però si può ancora migliorare. Si può ancora migliorare anche perché avete dimostrato di avere una buona tenuta fisica e avete dimostrato di essere squadra, di essere gruppo perché quando ad esempio usciva Iaialo c'era sempre qualcuno alle sue spalle a coprire. Avete lavorato molto sugli meccanismi e si è visto. Questo è un parte del gruppo forte dove siamo uno per l'altro, quindi io faccio una corsa di più, poi dopo lo fai tu per me e questo penso che oggi era fondamentale. In Telecronica abbiamo detto che sei sempre più ambientato, sembra un po' come Beccao che giocate con questa squadra già da un sacco di tempo, frutto degli allenamenti, anche magari di un aiuto che vi hanno dato i compagni per ambientarvi. Certo, davvero non è stato difficile abituarsi qua perché ci sono davvero una grande squadra con i grandi ragazzi che davvero danno una mano già dal primo giorno e il lavoro è nostro così, questo è calcio e ci dobbiamo abituare veloci. E poi un'atmosfera niente male anche allo stadio questa sera, avete vinto anche grazie al porto di un pubblico che vi ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Certo, grazie al pubblico perché davvero per me soprattutto era la prima partita qua a casa e con una vittoria e la meritano anche loro. Vittoria meritata, adesso testa al Parma come ci ha detto prima Marino, ci si gode la festa questa sera però da domani si inizia a lavorare per dare continuità, magari per regalare un'altra vittoria a questo pubblico. Certo, ho detto anche poco fa che dobbiamo stare con i piedi a terra e dobbiamo lavorare e continuare come abbiamo fatto fino adesso e da domani già prepariamo la prossima gara.